Dopo tre anni il Milan torna a Chiasso per un amichevole che acquista un particolare rilievo tecnico per la presenza di Sose impiegato da Playmaker, candidato numero uno dopo l'infortunio di Montolivo. Primo tempo con protagonista assoluto la Padula. E' lui ad aprire le marcature al minuto 8 su Assis di Niang. Cinque minuti dopo è ancora l'ex pescarese ad appoggiare a Niang. Il suo cross è diviato in rete al volo da Poli. Al minuto 18 la Padula Luisa Adriano che mette in mezzo per la terza rete autore Niang. Bello anche il quarto gol ancora di la Padula bravo nel tocco ravvicinato dopo azione Poli Niang. Quinta rete che chiude il primo tempo con Luisa Adriano dopo funga travolgente di Niang. Nella ripresa non succede più nulla e dunque il risultato finale Chiasso 0-1.5.